Mi dite un posto di merda, ma così di merda, avanti un rifiuto radioattivo, un parassita si sente a disagio, avanti, su, un cesso voglio! È appena arrivata questa richiesta. Dottoressa, mando subito una comunicazione? No, a lui piacciono le sorprese. Io non lo lascio, non lo lascio il posto fisto, capito? Non lascerò mai i miei privilegi! Capito? Pensano che io cedo, devo cedere per loro, solamente perché mi hanno mandato qui. I morta da mamma dal polo nord. Parliamone! Anche un partai va bene! Fammela chiamare, sta grandissima bastarda. Guardi qui che c'è. Dottoressa, rispondo io. No, no, lo lasciamo raffreddare un po'. Anche qui, grazie. Ma porca puttana oggi! C'è nessuno! Gesù, aiutami tu! Dammi un segno di vita! Mamma, al circolo polare alpico! Fa freddissimo, va! Più di lo carasso, di più! Mamma, non ti sa...